basta bravo per tutto il nostro forza Yann ha cambiato sono le più rossette sono le più piccole no rossette rossette anche lui rincorzate fiscale respiro ancora te pari destro tu lascia mi sembra di essere meno volato ma adesso mi sembra di essere un'altra parte adesso anche è inutile il fatto che non foste questo è il consiglio chi va? Sanchez forza Ligno forza Ligno si forza Ligno si schreva il pallone Sanchez anche lui cosa bene anche lui quasi centrale Sanchez parola con la mano è rimasto a coprire la porta ok è un'altra parte è un'altra parte si la caccia può concentrare un'altra parte si è un'altra parte centrale è anche fuori punto a ritorno di Sanchez forza Ligno forza Ligno forza Ligno non è un'altra parte di Sanchez è un'altra parte è un'altra parte ok ah l'alto è una carta con la carta dai la tarea è matra a 15 non si è scoperto non si è scoperto ma porca fruttana non può essere non è vero si va aperto dove tu? si va a rincrociare la frase ma non è vero grande riesce a coprire tanta porta si va a rincrociare la frase si ha paura a tutti si ha paura a tutti ci sono dopo di rispettare il portiere si è tutta una caccia noi abbiamo un uomo adesso è un uomo dai 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 forza Jan forza intera giovane Michele tutto pronto parte lui ecco non sbaglia di che adesso la pubblica è in vantaggio da con tre rigori di peron mi hai aspettato aspettate il danza di tutti rigore pesante rimediamo ancora perfetto di riguardo sforzarsi è giusto bocca ad acero no 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 acero è deciso l'esecuzione acero lascia tutto aperto rigore deciso centrale forte la freddezza del cielo non è vero non si sta dire correre sotto è la sensazione corretta forza per provare a mantenere il vantaggio correa contro se ricorso tre correa per scorsi corretta per se si 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 sb 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 ho capito è finito complimenti a loro non è neanche di Sanchez né di Turam né di Classo nessuno lo ha detto tutti ne ha tirato in linea tutti ne ha sbagliato Classo non ha sbagliato Sanchez ne ha sbagliato Turam non ha mai tirato un rigore perché non ha mai segnato un rigore ne ha tirato uno in carriera e ha sbagliato se non ricordo male Lautaro ne ha sbagliato i più visti su tre così in uno su tre c'è l'annogulo e spettacolare ma qual è il gioco espresso non è riuscito oggi qual è l'altro ha fatto una battaglia lì per tutta la proprietà peccato perché per tutta la stagione lì per un calcio in un certo tipo lì per un calcio